Vivo un po' la voglia di tornarci, perché rivedo il passato ma non capisco ancora e non conosco ancora dove sta arrivando la Bocconi. Però c'è un entusiasmo secondo me enorme legato agli anni più belli che ho passato a Milano. Un viaggio alla scoperta delle storie di successo dei nostri alunni, giovani manager e imprenditori. I loro progetti, i sogni, i sacrifici e i traguardi raggiunti dopo la laurea. Io sono Enrico Marchini e io Riccardo David Battaglia e questo è Here You Roar, un podcast di Bocconi Alumni per ispirarsi, pensare fuori dagli schemi e ricordare che tutto iniziativo è stato qui, un passo dopo aver attraversato i leoni. Per questo secondo episodio di Here You Roar abbiamo con noi Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass. Ovviamente l'azienda non ha bisogno di presentazioni, ma ascolteremo anche durante questo episodio che Telepass è anche tanto altro, a parte il telepedaggio. Ma passiamo a noi, Gabriele innanzitutto benvenuto. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Romperai subito il ghiaccio con una prima domanda, dato che siamo curiosissimi del tuo profilo e del tuo percorso professionale. Quindi romperai il ghiaccio chiedendoti di raccontarci un pochino di te, dei tuoi primi passi chiaramente in università e dopo aver attraversato i leoni e poi l'inizio del tuo percorso professionale. Guarda, il mio percorso professionale in realtà è iniziato prima di attraversare i leoni. Iniziai uno stage per la triennale. Io sono il primo 3 più 2 della Bocconi, cioè sono proprio quello su cui il 3 più 2 ha fatto le osse. Finiva il vecchio ordinamento, iniziava il nuovo. Alla fine del triennio ho fatto uno stage ai tempi in Sony, Sony in Italia. Mi hanno assunto e non ho mai finito. Quindi ho fatto la specialistica in realtà lavorando. Ho fatto la specialistica frequentandola, devo dire, non assiduamente perché gli impegni di lavoro mi chiamavano fuori, ma grazie ai campus che c'erano al tempo all'estero, che ti permettevano di recuperare durante l'estate un po' di esami, ce l'ho fatta. Quindi in realtà la mia carriera lavorativa è iniziata prima di attraversare i leoni, perché ho attraversato i leoni il 21, mi sembra, a luglio del 2006. Attraversando i leoni, già lavoravo... 21 luglio 2006, ce l'abbiamo. 21 luglio 2006, bravissimi. Attraversando i leoni, già lavoravo da due anni, a quel punto mi sono licenziato e ho iniziato la carriera in consulenza. La storia secondo me molto divertente è che ho avuto una carriera in consulenza nel mondo dei financial services, le banche, soprattutto banche, quando l'unico esame che io non ho superato in Bocconi, me lo sono portato fino al giorno prima della laurea, era intermediari finanziari. Quindi la mia vita poi lavorativa è stata incentrata su una cosa in cui in Bocconi proprio non avevo concentrato il mio effort studentesco. Gabriele, guarda, io colgo già che dalle tue prime parole Bocconi ti ha permesso di vivere in un contesto sicuramente dinamico e stimolante e ricco di opportunità. Quando abbiamo un po' studiato quello che hai raccontato in varie interviste, è risultato che il tuo percorso finora è sempre stato caratterizzato da una serie di sliding doors, no? E quindi mi chiedevo, soprattutto considerando un po' il contesto dove siamo, se ci racconti magari un momento così di plot twist che hai avuto relativo all'università e che hai piacere di condividere con chi ci ascolta. Racconto spesso la storia delle sliding doors e sicuramente la seconda sliding doors della mia vita riguarda la Bocconi. Devo in qualche modo ricordare un episodio poco piacevole ma che poi ha segnato la mia scelta dell'università che è stata la produta delle torri gemelle. Era l'11 settembre famoso che oggi viene documentato in tante storie. Io ero venuto a Milano il weekend, due weekend prima, per fare i test al Politecnico. Quindi avevo con gli amici di Pescara preso la Casa Piola, tutti organizzati per andare in zona Politecnico. Vengo a fare i test il sabato. La domenica avevo prenotato anche quelli in Bocconi. Io al tempo era un arbitro di calcio e dovevo scappare la domenica a fare una partita, mi ricordo, in Sardegna a Cagliari. Ho fatto molto rapidamente i test in Bocconi, non pensando che sarebbe stata la mia università. Dopo dieci giorni scopro che sarei stato preso entrambe le università. L'11 settembre assisto, come tutto il mondo, credo, a quell'evento un po' drammatico della caduta delle due torri. La mattina dopo i miei genitori mi danno l'assegno e avevo in mano i due bollettini ricevuti per posta per iscrizione all'università. A quel punto ho avuto la notte dell'indominato, la crisi. Sono uscito per iscrivermi al Politecnico. Ho deciso di iscrivermi in Bocconi. Perché? Perché c'era l'ignoto. Io venivo dallo scientifico, avevo letto esami come il diritto commerciale, bilancio 1, tutte cose che non dicono nulla a uno che ha fatto numeri, statistica e matematica per tutto il tempo. Quell'evento così imprevedibile della vita come le torri gemelle mi hanno detto guarda, preferisco forse l'ignoto della Bocconi piuttosto che una strada per cui mi ero preparato. Quindi direi che sicuramente le torri gemelle per me sono state una sliding door, sono una scelta importantissima come quella dell'università per qualsiasi ragazzo. Poi tra una sliding door e l'altra ci hai detto che sei partito da Pescara, tuo paese d'origine, sei arrivato a Milano e poi sei arrivato fino in Asia, lavorando poi per Value Partners. Ti chiedo quindi di raccontarci l'impatto che questo cambiamento e quanto questa esperienza in un contesto così diverso come l'Asia ha influito poi sulla tua crescita professionale e immagino anche per voi personale. Devo dire tantissimo perché anche qui è un po' una sliding door. Io ho studiato in Asia ai tempi della Bocconi, avevo fatto un esame all'estero, quindi conoscevo un po' di Asia. Mi ricordo che io stavo andando in un'altra società di consulenza, poi un mio collega è andato in Value Partners e mi sono fatto prendere dalla voglia di seguire questo collega con cui avevo lavorato qualche anno prima. Appena sono arrivato in Value Partners mi dicono c'è un progetto in Asia. Avevo studiato in Asia in Bocconi neanche due anni prima, mi era piaciuta e finisco a lavorare per due anni tra Shanghai e Hong Kong. Devo dire due anni bellissimi, due anni in cui gli expati in Asia erano qualcosa di ricercatissimo, l'Asia comprava competenze dall'Europa. Sono stati due anni in cui sono stato staffato, come si dice in gergo della consulenza, nel nuova banca. E quindi ho iniziato la mia carriera in financial services che non avevo mai trattato prima né da consulente né in Sony con l'elettronica di consumo, poco a che fare con il mondo della moneta digitale. In Asia in questi due anni devo dire ho scoperto un mondo, ho scoperto che cosa vuol dire vivere veramente da solo, perché essere in Italia, a Milano, lontano dal genitore, è diverso che essere a fusi orari di differenza. Una barriera culturale enorme che credo sia ancora attuale, ma ai tempi tu con il locale non riesci a comunicare. Cioè la barriera linguistica del cinese è una barriera enorme, non è come l'inglese. Quindi vivi con degli expat. Vivendo molto con degli expat ci si unisce molto in una sub-community all'interno di una popolazione di miliardi di persone. Devo dire un'esperienza di adattabilità nella vita formidabile. Gabriele hai parlato già dell'importanza della consulenza nel tuo percorso e tanti di noi quando eravamo studenti o alle primissime armi a livello lavorativo si sono sentiti dire che per farsi le ossa è sicuramente un'ottima palestra se non la migliore. Mi ricordo quando ho iniziato a PwC che qualcuno lo definiva forse un male necessario, no? Anche se con qualche anno in più devo dire non vedo questa connotazione così negativa. Quello che ti chiedo è se consiglieresti in generale questo tipo di esperienza a chi si sta laureando e sta ancora cercando un po' la sua strada a livello professionale. Exposto ti dico assolutamente sì. Nella mia esperienza personale io devo dire studiamo in Bocconi dove in quegli anni c'era il mito delle banche di investimento. Poi proprio negli anni 2006-2007 è iniziata quella crisi del mondo finanziario e quindi tutte le persone si sono rindirizzate dal mondo della finanza un po' più spinta al mondo del manager consulting. Io devo dire che sono entrato nel mondo del lavoro con quei due anni di esperienza insoni che vi ho raccontato ma avevo il mito di voler fare la consulenza. Quindi vi avevo detto poc'anzi che mi ero proprio licenziato per entrare nella prima esperienza in consulenza che ai tempi fu Capgemini lavorativa in consulenza perché mi piaceva l'idea di dire vado in un posto, sto poco tempo, vedo qualcosa e avanti il prossimo, quindi avanti un'altra avventura. Questa effettivamente è la vita del consulente, l'ho vissuta sulla mia pelle e se sei una persona adattabile per posto dove vai a vivere, per tipo di vita che rischi di trovare perché alcune volte lavori anche fino a tardi, altre volte la vita è un po' più semplice a volte conosci di più il contenuto rispetto al progetto che stai facendo a volte non ne conosci nulla e devi imparare rapidamente. Quindi sviluppare questo senso di adattabilità e velocità è una competenza che mi sono poi portato avanti nel resto della carriera. Quindi sì, la consiglio perché è un'esperienza di vita oltre che di formazione. L'abbiamo presa larga perché siamo partiti dalla tua prima esperienza in Sony passando per Value Partners. Arriviamo poi al momento cardine perché a 34 anni e sottolineo 34 anni sei diventato poi il numero uno di una tra le più importanti realtà in Italia ma direi anche in Europa ovvero Telepass. Mi chiedo, cosa vuol dire, immagino che sfida diventare CEO di un'azienda così importante in un'età così giovane e poi tra l'altro a soli dieci anni dalla tua laurea? Altra slide endorse della mia vita perché finisco in Telepass per una coincidenza. io vi ho detto che ho lavorato molto nelle banche avevo avuto un contatto con il mondo della famiglia Benettono che stava portando degli investimenti nelle banche a un certo punto mi dicono no ma stiamo guardando un asset che si chiama ICBP oggi l'attuale Nexi, credo nota a tutti e io gli feci questa battuta all'allora gestore degli investimenti della famiglia ma perché guardate questi investimenti quando nel vostro ecosistema esiste una realtà che si chiama Telepass che è la più vecchia fintech italiana aggancia 12 milioni di conti correnti parlavamo del 2016 ai tempi poi sono arrivate le Satispay tutto il mondo del fintech quindi ci avevo visto un po' lungo e mi ricordo che mi disse vai a parlare con l'amministratore delegato all'ora di Atlantia un gruppo industriale, infrastrutturale ciò che di più lontano possa esistere da me banche in centro delle città, Asia e quant'altro vado in questo posto da bravo consulente prendo il mio primo cliente industriale da partner di una consulenza vado a fare un progetto industriale che era su Telepass portarla nel mondo dei servizi di pagamento ho fatto questo progetto poi alla fine di questo progetto mi sono trovato con il cliente che mi ha chiesto guarda perché non rimani a realizzare cioè talmente convinto con le idee noi siamo degli industriali non conosciamo quel mondo lì perché non rimani con noi per svilupparlo quindi per una coincidenza mi trovo ad avere un'opportunità bellissima cioè realizzare quello che hai pensato tu hai fatto la domanda giusta come poi sei riuscito perché quando tu entri molto giovane in un ruolo è molto più la torrevolezza che devi avere per conquistare il rispetto delle persone che ci stanno attorno io la sintetizzo in questo modo è un tema di leadership intellettuale nel momento in cui tu sei utile e da consulente hai imparato a essere utile al tuo cliente quindi anche quando tu sei utile ai colleghi guadagni una sorta di leadership cioè non ti riconoscono per l'età o per quello che hai fatto ti riconoscono perché li hai aiutati perché di fronte a un problema li hai trovato un angolo una soluzione che loro non erano riusciti a vedere e guadagnando nei primi 12 mesi la fiducia di tutto il team per le mie capacità da quel punto la strada è stata in discesa perché abbiamo dovuto realizzare si fidavano e abbiamo dovuto realizzare quello che io da consulente avevo scritto con loro quindi sicuramente quando sei giovane hai da lavorare molto di più perché devi conquistare la credibilità che non ti è data spesso dal CV dalla storia o anche dall'aspettativa perché spesso poi il CV non è sempre veritiero di quello che sai fare ma sei sul campo lavorando con loro facendo le classiche notti sui problemi del lavoro ti guadagni quella fiducia che poi mi ha consentito di fare questo percorso di trasformazione che è stata Telepass e penso che la complessità sia anche rimanere molto coerenti con se stessi perché da quando tu sei arrivato in Telepass hai iniziato un trend di acquisizioni di start-up che permettono effettivamente adesso all'azienda di offrire un servizio sempre più ampio ai clienti infatti quando prima hai detto la più vecchia fintech italiana mi si è un po' illuminato il ragionamento su quello che fate nel puntare innanzitutto su realtà imprenditoriali ma poi anche sui giovani immagino per tenere un po' lo spirito che ti ha portato a prendere questa sfida quando sono entrato in Telepass il primo giorno mi hanno tutti i manager mi hanno presentato l'azienda mi ricordo una slide che ce l'ho ancora conservata in cui il capo delle risorse umane mi disse guarda ci sono due persone più giovani di te in tutta l'azienda e questo è un dato cioè quella era un'azienda che stava correndo il classico rischio Kodak stampava soldi su un solo servizio in un regime protetto che a breve sarebbe cambiato e lo faceva bene ma quando tu fai bene una cosa non vedi il mondo che cambia ecco io ero arrivato lì sapendo che quella aveva un'azienda di potenzialità di micropagamenti elevatissima gestiva già nei fatti era un circuito di pagamento gestiva microtransazioni da 5 euro di taglio medio laddove le carte di credito non riescono a bucare neanche il bancomat ce l'ha fatto sono poi arrivate le famose fintech che citavamo prima una trustability elevatissima cioè nessuno controlla l'estratto conto del telepass poi magari controlliamo invece quanto abbiamo spesso su Apple Pay su tutti i vari strumenti quindi c'è molto trust avevo degli elementi molto forti ecco mi mancavano le persone per fare questa rivoluzione che avevamo in mente aggiungo un terzo elemento anche la mobilità stava cambiando avete visto lo sharing avete visto l'alta velocità l'elettrico tutto questo mondo dovevo trovare l'ingrediente per smuovere questo gigante però senza buttare a mare quello che di buono facevano perché avevano 30 anni di storia questi signori erano nati nel 1990 le start up sono state la soluzione come citavi tu prima nel senso contaminare quel mondo aziendale di ragazzi che erano entrati nel mondo della mobilità con iniziative imprenditoriali avevano sviluppato tutto cloud native vi farà ridere ma quando sono entrato io in telepass c'erano il mainframe sotto l'ufficio il mainframe IBM Z10 messi all'interno dell'ufficio cioè una situazione dove oggi una start up non saprebbe mettere mano quindi ho unito quel mondo del mainframe con un mondo di ragazzi che avevano non conoscevano il passato sapevano solo come si facevano le cose in ottica nuova e ho dovuto per i primi due anni gestire un clash culturale perché sono due culture che si scontrano tra di loro io in un certo senso anche per fascia di età in mezzo a quei due mondi e quindi sono stato un traghettatore dei due mondi ma è stata la chiave per riuscire ad accelerare e fare in pochi anni in quattro anni quello che siamo riusciti a costruire quel classico diciamo modo di dire si è sempre fatto così se porti i giovani in azienda non lo ascoltano no? sì infatti tendenzialmente soprattutto quando non sei un'azienda in crisi in difficoltà tendi a non aprirti verso la contaminazione esterna io probabilmente sono stato la chiave giusta per età per estrazione in un mondo finanziario e non industriale a riuscire a far dialogare e anche a comprendere angoli punti di vista e culture diverse ecco il mio lavoro è stato veramente un mediatore culturale nei primi anni alla fine la tua giovane età di quando sei diventato amministratore delegato è diventata un po' la leva che vi ha permesso di fare questi salti di qualità avevamo anticipato che Telepass oggi non è solo sull'autostrada e ce l'hai appena raccontato ma aggiungiamo che c'è anche un legame con il mondo dello sport perché ad esempio con Ski Pass avete cambiato il modo in cui si accede alle piste da sci avete anche sponsorizzato i mondiali di sci di Cortina 2021 e aggiungiamo un aneddoto su di te perché sappiamo che hai un passato da sportivo non solo come sciatore ma anche come arbitro di calcio quando eri a Pescara ce l'avevi anticipato tra le linee quindi ti chiedo quanto ha influito questa passione questo tuo essere sportivo nella scelta di abbinare il brand Telepass con appunto il mondo dello sport partiamo dal tema della mia carriera ad arbitro io l'ho finita più o meno nel 2005-2006 e ho scoperto il weekend e il weekend per uno che dal giovedì andava a Coverciano la designazione la partita la moviola e scopri il weekend il weekend è fatto di programmi televisivi allucinanti che riempiono ore e ore del nulla a Milano Milano si svuota il weekend ho scoperto la montagna e quindi ho iniziato anche a sciare subito dopo ho ripreso un'attività che non facevo da diversi anni perché l'arbitraggio mi aveva molto assorbito e ho riscoperto la montagna poi da Milano ci sono varie opzioni quando poi lavorativamente dopo pochi anni mi sono trovato in Telepass abbiamo iniziato a studiare i dati e i dati ci dicevano che 4 milioni di italiani tutti gli anni prendono la macchina e fanno un bip in un casello per andare a sciare bene c'è un bisogno stavamo lavorando sui data analytics quindi le assicurazioni collegate allo sci abbiamo detto ecco creiamo un Telepass che ti permette di aprire tutte le piste scistiche senza fare la fila è un messaggio molto vicino a quello Telepass e l'abbiamo a quel punto ci siamo trovati dove fare una scelta di investimento che Cortina l'hai citata prima che è stata la prima occasione in cui al mondo intero all'Italia abbiamo comunicato Telepass non è più autostrada cioè quel brand era collegato allo sport al montagna è stato un modo di rottura se tu mi chiedi di quanto è collegato la mia esperienza da sciatore prima da arbitro sportivo e poi sciatore ti dico poco è stata più collegata ai dati che abbiamo potuto leggere di mobilità all'interno del nostro ecosistema di dati Telepass poi però quando col lavoro riesci a unire anche le tue passioni personali allora forse viene fuori il massimo del risultato possibile e quello che ci hai raccontato fino ad adesso è un percorso sicuramente super stimolante ricco di spunti ma guardiamo un attimo al futuro prendo in prestito le parole di una canzone che dice il meglio deve ancora venire e che cose ti aspetti in futuro quali sono i prossimi traguardi che ti sei un po' in posto di raggiungere guarda noi siamo riusciti a dare una chiave nuova a quello che oggi chiamano tutti i mobilitas service in anticipo siamo riusciti ad anticipare l'ondata di hype sul mondo dei pagamenti digitali con Telepass adesso vorremmo iniziare un pochino a craccare quello che è il mondo assicurativo nel senso tutti i dati che noi oggi generiamo sono un valore enorme sul fronte insurance oggi chiamato insurtech l'applicazione della tecnologia al mondo assicurativo lì vedo uno spazio in cui ancora nessuno ha trovato una reale situazione siamo ancora fermi a pensare di dover tracciare il cellulare per avere i tuoi comportamenti o installare qualche hardware all'interno della macchina per tracciare la tua auto secondo me oggi il primo che riesce a craccare questo questo problema dell'hardware e della privacy affermerà un nuovo modello di vendere prodotti micro assicurazioni targetizzate e l'ho capito ancora una volta studiando i dati noi compriamo tonnellate di dati per sapere il tempo in una determinata location perché gli algoritmi usano il tempo abbiamo smesso qualche anno fa di comprare i dati da Google su questa cosa perché abbiamo visto che tutti i telepass connessi che abbiamo in giro per l'Europa ci danno un dato importantissimo il tergicristallo state tranquilli che i tergicristalli attivati in un determinato punto ci dicono che lì sta piovendo non ho bisogno di comprare nessuna informazione il traffico quando leggiamo gli stop delle auto premute in una determinata zona tutti sono col piede sopra il freno lì c'è una fila quindi vedete questa intuizione ci ha iniziato a dire caspita ma allora sul mondo assicurativo se leggiamo questi dati con un'ottica nuova possiamo iniziare a valutare il rischio in modo diverso quindi credo che quello che oggi deve ancora venire nel mio futuro è affermare un nuovo wave di trasformazione e cambiamento in quel settore e dopo vorrei uscire diciamo con successo dall'esperienza telepass probabilmente vediamo se la quotazione in borsa sarà l'exit perfetta e poi vedremo magari arriva il momento di fare l'imprenditore piuttosto che il manager Ricky ti ha portato verso il futuro io ti voglio riportare un attimo verso il passato perché oggi sei tornato dove tutto è iniziato non so da quant'è che non venivi in Bocconi non so se eri mai stato in Radio Bocconi quindi ti volevo chiedere quali sono le emozioni che hai provato e se ci sono poi dei ricordi in particolare che ti sono affiorati alla memoria e tra questi quale peschi qual è il più bello allora io devo dire che sono una persona poco emotiva ma oggi è un turbinio di emozioni perché sono seduto qui con voi di fronte al campo da calcetto che ho cavalcato tutti i giovedì sera per cinque anni ed era ai tempi difficilissimo prenotarlo non so oggi come fate voi ma bisogna andare nella banca qui vicino pagare prenotare tant'è che c'eravamo fidanzati con la cassiera per avere la prenotazione tutti i giovedì di tutto l'anno cioè riconosco dei posti che sono gli stessi ho passato ho camminato sotto la mensa la biblioteca ma allo stesso tempo ho tanta tanta novità attorno il campus dello Sda Bocconi nuovo è una cosa mastodontica e allora vivo un po' la voglia di tornarci perché rivedo il passato ma non capisco ancora e non conosco ancora dove sta arrivando la Bocconi però c'è un entusiasmo secondo me enorme legato agli anni più belli che ho passato a Milano cioè quando ti allontani da casa hai cinque anni dell'università sono anni in cui ti formi delle amicizie che io ho ancora oggi per esempio e poi dove hai fatto le tue prime avventure di qualsiasi tipo forse non è il caso di raccontarle tutte ma le prime ubriacature vere fatele fatte all'università qui fuori dal dormitorio che è di fronte a noi i primi amori adolescenziali veri nascono all'università le prime anche delusioni nascono all'interno dell'università è veramente l'esperienza di vita credo più formativa che abbia avuto e a Bocconi sono veramente tanto 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 legato oggi e visto che siamo in chiusura sfrutto l'assist dato dal calcetto e rimango su questa macchina del tempo abbiamo detto la data della tua laurea il 21 luglio del 2006 e parliamo con un Gabriele più giovane che consiglio ti daresti gli daresti? il consiglio che oggi mi darei è quello probabilmente di godermi gli ultimi due anni di università di più rispetto a quanto ho fatto vi ho raccontato che li ho fatti lavorando quindi probabilmente vivendo il campus meno di quanto avrei voluto dall'altra parte però credo sempre che il mio successo lavorativo sia anche in parte legato a quei due anni in cui ho fatto una vita d'azienda prima di fare il consulente spesso chi inizia in consulenza non ha idea di quello che sia l'azienda quindi sono un po' combattuto però oggi con la tranquillità che ho raggiunto nei miei 40 anni forse mi guarderei indietro direi goditi ancora di più quei due anni di specialistica rispetto a quello che ho potuto fare in passato Gabriele grazie mille del tuo tempo e della tua disponibilità grazie mille è stato un episodio davvero interessante grazie a voi avete ascoltato Hear Your Roar un podcast di Bocconi Alumni io sono Enrico Marchini e io Riccardo David Battaglia e vi diamo appuntamento al prossimo episodio continuate a seguire la Bocconi Alumni Community sui profili social e visitate il sito per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative we wanna hear you roar aaaaaah aaaaaah aaaaaع aaaaaa aaaaaa aaa